Buongiorno bambini! Allora, eccoci alla seconda parte delle regole per dividere le parole in silabe. Allora, perché dobbiamo dividere in silabe? L'abbiamo già imparato, ma lo ripetiamo perché non fa mai male. Allora, dividere in silabe serve per andare a capo. Cosa significa? Quando noi scriviamo un dettato, oppure quando impareremo a scrivere noi dei testi, delle frasi nostre, scopriremo che molto spesso sono costretto ad andare a capo perché la pagina viene sbarrata dal margine e quindi quel margine mi dice che non ho più spazio per scrivere e devo andare a capo. La lingua italiana, come vi ho già ricordato nel precedente video, purtroppo prevede delle regole ferree per andare a capo. Non possiamo andare a capo come ci piace, dobbiamo per forza seguire delle norme molto molto precise. Allora, queste norme molto precise ci dicono esattamente quando e perché andare a capo. Viceversa, se andiamo a capo come piace a noi, con un po' di fantasia, un po' di libertà, ahimè, ci troveremo un bel errore di fronte. Allora, se vi ricordate, avevamo studiato nella prima parte le prime tre regolette, le più facili, le regole base. Allora, la prima regola, come sapete, dice che è sufficiente dividere le stilabe, cioè i blocchi composti da una consonante da una vocale. La seconda regoletta, invece, diceva che se mi trovo di fronte ad un margine della pagina e devo andare a capo, una delle regole più sicure per non sbagliare è quella di dividere letterine doppie. Per cui, quando in una parola ci sono due consonanti gemelle, cioè le doppie, sarà sufficiente sbarrare le due doppie. La terza regola, se vi ricordate, anche quella è molto semplice e dice che l'acqua, cioè la parola acqua e tutte le sue figlie possono essere divise, quindi posso andare a capo in loro presenza separando molto semplicemente la Q dalla Q. Quindi separo la Q dalla Q e posso andare tranquillamente a capo, lascio la Q vicino al margine e riporto alla riga successiva la Q. E anche in questo modo sono sicuro di non sbagliare, sicuro e sicura. Allora, vediamo adesso le nuove regolette. Eccoci qua. Allora, la quarta regola, la quarta regola dice che i gruppi consonantici, cosa è questa brutta parola, i gruppi consonantici, cosa saranno mai? Allora, i gruppi consonantici sono quei suoni molto difficili, praticamente sono l'insieme di tante consonanti messe insieme, almeno tre, due o tre. Quindi insieme non c'è mai una vocale, sono tutte consonanti, tutte due o tutte tre consonanti. E questi gruppi consonantici, cioè questo insieme di consonanti legati insieme, non si possono dividere. Se vado a capo devono rimanere attaccate, non le posso spezzare, altrimenti il suono diventa impossibile da leggere. Pertanto questi gruppi devono rimanere insieme. Andiamo a rinfrescarci un po' la memoria e vediamo quali sono questi gruppi consonantici. Allora, i gruppi consonantici, li abbiamo studiati, sono quei suoni formati da due o più consonanti, quindi br, sbr, cr, scr, dr, sdr, fr, sfr, gr, sgr, sr, tr, str, pr, spr. Sentite come sono difficili da pronunciare. Ecco, loro devono rimanere così come sono, non si possono dividere in nessun modo. C deve rimanere con r, sfr devono rimanere insieme, sfr devono rimanere insieme, str insieme e tutti questi suoni devono rimanere insieme. Andiamo a vedere qualche esempio. la parola mostro. Allora, guardate la parola mostro. La parola mostro è formata da mo e stro. Allora, questo gruppo di consonanti s, t, r, non lo posso separare e quindi avrò mo, stro. Premio, anche qua, guardate, abbiamo questo gruppo di consonanti, la p e la r insieme e quindi non posso separarle. Pre, no. Anche grano, vedete, è formato da gr, vedete gr, questa gr non la posso separare per cui dovrò scrivere grano. Vediamo altri esempi. Allora, anche qua, tre consonanti insieme. Strada, str, posso dividerle? Assolutamente no. Quindi avrò strada, braccialetto, br, gruppo consonantico formato da br, posso dividerlo? Assolutamente no. Quindi avrò brac, perché qui naturalmente c'è la doppia, devo dividere anche la doppia, br, c, c, a, let, to, anche qua, due doppie. Broccoletti, quelli che i bambini non piacciono tanto. Allora, br, vedete, anche qua, due consonanti insieme, le posso dividere? No, perché i gruppi consonantici, cioè le consonanti due o tre consonanti insieme, devono rimanere unite, 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 non le posso separare. Anche qua ci sono due doppie che ho separato e altre due doppie qua che ho separato. Allora, andiamo a scoprire la nuova regoletta. Regola numero 5. La s è sempre legata alla consonante che la segue. Cosa vuol dire questa cosa? La letterina s deve stare al contrario di quanto viene le letterine ponte? La s deve stare sempre con la sillaba che viene dopo di lei, quindi non può stare con le sillabe che vengono prima di lei, perché quelle sono già di proprietà delle letterine ponte, loro sono gelosissime. Quindi la letterina ponte si prende la sillaba che la precede, la s invece si prende la sillaba che la segue. Questo cosa comporta? Un segreto. Vedete che vi ho messo un segreto qua? Non lo diciamo a nessuno. La s, se dobbiamo andare a capo, ricordatevi che lei va sempre a capo. Quindi se siamo in dubbio se andare o non andare a capo con una letterina, se abbiamo la s, siamo fortunatissimi, perché lei vuole andare sempre a capo, sempre, e quindi lasciamola andare a capo sempre. Andiamo a vedere qualche esempio. Allora, guardiamo qua. La quinta regola mi ricorda che oltre a dividere le sillabe e separare le doppie e dividere la c, la q e la q, quando sono in presenza della parola acqua e delle sue sorelle, devo attaccare la letterina, la consonante s alla sillaba che segue. Cosa vuol dire sillaba che segue? Nella parolina bosco, per esempio, la sillaba che precede è bo, ma la s non vuole stare con bo, vuole stare con la sillaba che viene dopo di lei, quindi che la segue. Quindi bo, sco. Stessa cosa succede nella parolina castagna. Allora, la s della parolina castagna non vuole stare vicino a ca, ma vuole stare vicino a ta, cioè la sillaba che viene dopo di lei. Quella che viene prima di lei la lascia alle letterine ponte. Quindi, castagna. Stessa cosa anche per castagno. Castagno. Posta. Posta. Pastelli. Pastelli. Qui c'è anche una doppia, vedete? La regola è sempre quella. Divido prima le sillabine, lascio la s vicino alla sillaba che la segue e divido le doppie. Caschi. Anche questo, vedete, s, c, h, sono dei suoni difficili, perché ci sono tre gruppi di consonanti insieme, quindi vogliono stare tutte insieme, s, c e h. tastiera. Tastiera. Quindi, la s va sempre a capo, nel senso che lei vuole stare sempre attaccata, vedete, sempre, sempre, sempre alla sillaba che viene dopo. Quindi, se noi siamo in difficoltà e non ci ricordiamo proprio tutte e tutte le regoline per andare a capo, ricordiamoci però che se c'è una s, io la porto a capo ed è assolutamente corretto. Quindi, ho diviso bene la parolina. Andiamo a vedere la sesta regola e questa la conosciamo già. Cosa fanno le letterine ponte? Le letterine ponte, che sono la l, la m, la n e la r, vogliono stare sempre vicine alla sillaba che le precede. Quindi, cosa succede? La s, si prende le sillabe che vengono dopo, mentre le letterine ponte, quindi il m, la r, vogliono stare sempre con la sillaba che viene prima. Quindi, difficilmente loro vogliono andare a capo, preferiscono stare sempre attaccate alla sillabina che viene prima. Andiamo a vedere degli esempi, ma li abbiamo, che conosciamo già, ma non importa. Ripassiamoli insieme perché male non fa. Allora, la sesta regola mi ricorda che, oltre a dividere le sillabe, separare le doppie, dividere la c e la q, devo attaccare letterine ponte, le, m, n, r, alla sillaba che le precede. Ballerina, ball, vedete, lei vuole stare sempre vicino alla letterina che viene dopo, quella che viene prima. Quella che viene dopo non gli piace. La lascia alla s. Tartaruga. Anche la r, come la l e la n, vedete, vuole stare sempre vicino alla sillabina che viene prima di lei. Sempre. Loro sono sempre insieme, quindi tartaruga. Qui ho diviso semplicemente le sillabine, qui ho diviso anche le doppie. Mondo. Anche la n è una letterina ponte per eccellenza e lei vuole stare vicino, vicino, vicino alla sillaba che la precede. Quindi sempre vicino alla prima sillaba, mai a quella che viene dopo. Vediamo altri esempi. dondolo, don, do, lo. Campeggio, cam, peggio, balcone, bal, co, ne. Qui non l'abbiamo diviso. Ops, 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 ecco qua. Bal, co, ne. E adesso veniamo ad un'altra regola che è molto facile, molto molto facile, bimbi. Allora, cosa dice questa regola? Che non si dividono mai tutte le paroline che contengono gli, gli, chi, che, schi, schè, sci, schè, ghi, ghe, sghì, sghì, scasco, scu, qua, que, qui e quo. Tutti questi suoni che noi abbiamo studiato, imparato, eccetera, anche loro cosa vogliono fare quando vanno a capo e rimanere insieme. Per cui non posso separare gli a, gli e, gli, gli o, gli u. Questi vogliono stare sempre insieme. Stessa cosa succede con gli a, gli e, gli, gli o, gli u. Devono stare insieme, non posso spezzarle. Se le spezzo ho commesso un errore. Idem chi e che, idem schie e schie, anche perché vedete che questo è anche un gruppo consonantico, vedete? Perché ci sono una, due e tre consonanti insieme. Quindi noi abbiamo imparato che se abbiamo dei gruppi di consonanti, queste devono stare sempre insieme. Anche il suono sci e sce, il suono del silenzio, devono stare sempre insieme. Quindi il suono del silenzio sci e il suono del silenzio sce devono stare sempre insieme. Ghi e ghe devono stare sempre insieme. Sghi e sghe devono stare sempre insieme. Anche qua vedete un altro gruppo consonantico, bimbi. S, g, h e anche qua g, h, k, h, ok? Poi qua, que, qui e quo, anche loro non possono separarsi, devono stare sempre vicini. Allora, andiamo a vedere alcuni esempi. Con la ghe, con la ghe. Col suono del silenzio SH, KASHINA, NASHITA, PESCE, RUSHELLO, qui abbiamo anche una doppia. Il suono G, GIRO, MAGETTO, GIACCHO, ALGHE. Il suono K, CHELA, BARCHE, CHIODO, ZUCCHE, FOCHE, PAN.